un piccolo consiglio una stupidaggine quando veniamo a pescare portiamoci sempre sempre una o due canne di riserva non si sa mai quello che succede poi abbiamo il cassone ognuno lo gestisce come vuole e oggi stiamo con i travi del 50 coi travi del 60 e tutto quello che può servire tra micro granchi silicone perline le classiche forbici stramatoni in vasto assortimento di ami qua abbiamo fatto una piccola modifica sul cassone che ci contiene i nostri fili e dentro il giubbotto l'acqua e tutto quanto